Grazie a tutti. 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 Bello. Grazie a tutti. 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 per te. Grazie a tutti. Vai a tutti. Grazie a tutti. Alla. hai ragione. a tutti. Bello Bello Beh via Continuando così Toro, loco, misce un po' Non mi dura semplice Gira Loco Loco Occhio, occhio Scarica, scarica dietro, fai la girare Vai a lei Carlo 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 Se vuoi cambio Carlo Se vuoi cambio In questi due settimini Proprio la nostra Arriva, arriva Luca Cambio Uno dei centrocampisti Oi Rituale F*** F*** un bell'Arzad Vieni Braga 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 E poi c'è che ci fa Giorgio Vieni Braga Bravo Vieni Una bella campagna Vieni Braga Braga All right, bye. Bravo, 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 cambio, fare un'azione, sono a 15 minuti, ok, ancora 5 minuti. 25, 25, io ho un bel, secondo me ha piuttosto un bel gol, ti lo so, alla prossima. Lo so che nel terzino è difficile segnare. Stai in avanti, stai in avanti, Carlo! Le parole più improbabili possono non succedere. Meno 10, sono bastati 16 minuti. Grazie. Ogni 5, ho cambiato o sei? Sì, ogni 5. Ok, perfetto, allora ti chiamo. Grazie. Ti guardo. Calma, calma! Torno! 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 Finiera, punta! Spingi un po' tu, spingi un po' tu, salone! Arrivo, Iacchi! Scusate! Passo, non lo faccio più. Raga, scelta giocare un pochino. È uomo. Fatti un pochino. Tu guardavo se vuoi non passare dei settimini? Non so se vuoi giocare. Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. bravo. Grazie a tutti. grazie a tutti. e a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie 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 a tutti. Vieni, vieni, oppi, oppi! Vieni, 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 vieni! Torna, Carlo! Bravo, Moce! Bravo, Moce! Oppi in mezzo! Oppi in palo! Sì, farlo uno, due, uno, due! No, non ce la faccio! Vedo chi è stato! È manco un minuto che è... Forza, oggi... Caccia l'ossa! Non mi fa! Cos'è? È il prossimo cambio, sì! Dichi se te lo chiedono che siamo entrati due minuti dopo? Vabbè! Cioè, non dico che siamo stati a 14, sono stati dietro, via, sì! Non poi vedo, no! Vieni, vieni, hai fatto! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni. Cambio, vieni! Che direi, vieni! Il 7 è giusto! No, il 7 è giusto! Vai, il 5 è giusto! Vieni, vieni! Un po' di attività. bravo Tanda è un'ora da 15 adesso allora lo facciamo uscire ancora arriva sei un uomo sei un uomo sei un uomo sei un uomo sei preso sei un uomo è un uomo è un uomo siiu Grazie, ragazzi, se poi annuncia un bel party, grandissimi. Grazie, ragazzi, ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie. 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 Grazie, ragazzi. Grazie. 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 Eh? Lo so. Aspen. Sì. Le salta. Un'epoca. La salta. Arlo! E' come il tuo senso. Prego Filo, non credi che ti porta. Non pensano i terrassi. Non pensare che stai davanti. Mi sa che è pieno davanti. Carlo! 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 E' quello il mezzo piede giusto! Bravo Carlo! C'è quello che vuole, ma? Carlo! 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 Guarda! 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 Grazie a tutti